Un'ispezione è stata disposta dalla procura di Bari all'interno della struttura che ospita l'ospedale Covid della Fira del Levante. Il decreto è stato firmato dal procuratore Roberto Rossi e dall'aggiunto Alessio Coccioli nell'ambito dell'inchiesta a carico dell'ex capo della protezione civile pugliese Mario Lerario, arrestato lo scorso 23 dicembre per delle presunte tangenti incassate in cambio dell'affidamento di appalti. Il provvedimento è stato notificato allo stesso Lerario e poi al funzionario regionale Antonio Mercurio e all'imprenditore Domenico Barozzi, indagati per concorso in turbativa d'asta e falso in relazione, si legge nel decreto, all'affidamento delle opere per la realizzazione dell'ospedale Covid in Fira. L'ispezione, specifica la procura, è necessaria per procedere alla verifica dello stato dei luoghi, utile ad effettuare le valutazioni di carattere tecnico che occorrono ai fini dell'accertamento delle ipotesi di reato di turbata libertà degli incanti e falso ideologico. Oltre all'ospedale Covid realizzato nella Fira del Levante, nell'inchiesta della magistratura barese, Lerario e altri sette indagati rispondono complessivamente di almeno 12 presunti appalti truccati affidati dalla protezione civile regionale ad altrettante ditte tra il 2019 e il 2021. Uscito dal carcere il 17 marzo scorso, Lerario si trova adesso agli arresti domiciliari con l'accusa di aver intascato due presunte tangenti. Sarà processato con rito abbreviato.